Questo oggi arriveremo nel cielo, Fere mia, quasi quasi voleremo addirittura Perché punteremo a salire sopra un airdrop mentre sta scendendo Quindi proprio nel gonfiabile dell'airdrop Cioè tu quando vai a dormire la notte sogni le sfide da farmi fare su Fortnite o cosa? Perché non ho capito dove te togli fuori questa roba Non lo so, Fere, io penso e penso questo potrebbe essere una bella tortura da fare in un video Esatto Potrebbe prendere quattro ore quindi va bene Esatto, siccome poi ogni volta le facciamo sempre così Così con uno schiocco di dita, Steph, come minimo registriamo per due ore prima di riuscirci Però, ti pongo due quesiti Secondo me quando ci sono tanti quesiti, una sfida è interessante Ok, la prima domanda è Quando tu ci sali sopra, sopra proprio la parte gonfiabile e sta scendendo Tu scendi insieme adesso o ti mezzo glitchi e inizi a rimanere in volo? Secondo me dovresti scendere comunque insieme all'airdrop E se tu poi distruggi la parte gonfiabile dell'airdrop mentre io ci sono sopra E quindi l'airdrop crolla di botto Io crollo insieme all'airdrop crepando o tipo per un bug non subisco danno da caduta? Probabilmente crepi, anche se non lo so perché in effetti non penso che venga considerato Cioè un player che se ne va su un airdrop e poi cade e magari si può buggare la situazione Non lo so, non lo so, è curioso perlomeno da provare Quello ti dico che è un esperimento interessante perché ha un po' di quesiti Sia che non muori fa ridere lo stesso, Steph, quindi va bene in ogni caso Tanto ci provo io Esatto Allora, vedi gente? Eh, mi sa di... Oh, minimo due team Minimo due team Eh, purtroppo dobbiamo stare abbastanza al centro perché poi ci serve, ok? Ovviamente C'è ancora la frattura, sì, ok Mi è venuto il dubbio, sai, non si sa mai che magari l'hanno torta No, ci sono ancora i propulsori Oh yeah Allora, io vado alla villa Anche io vado sopra Ok, io vado sotto Sul tetto Ero bella alta, quindi Hai visto se c'è qualcuno? Loro sicuramente sono nella prima parte perché erano bassi, erano molto bassi Ok, ok Io ho già un'arma con cui sono molto forte, quindi non è per niente male Mi serve un fissile a pompa Io però ho trovato solo per ietli, ma apro questa cesta Legna, 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 legna Ok La legna ci serve a vincere questo fight Perfetto Già 100, non è male Lo sgabbello, grazie, uno Mi pare sicuramente comodo Vediamo un po' cosa troviamo qui Ok, vabbè, questo è un upgrade Che schifo In realtà le hanno potenziate, quindi non sono più neanche quelle tanto scarse Le mitragliette silenziate Ti consiglio di iniziare a provarle Perché le hanno baffate due o tre volte di danno E ora picchiano Beh, perché prima erano davvero ridicole Cioè, non facevo utilizzarle Esatto Opla, opla, opla Scillone E sono pronto a combattere Eh, io per niente, c'ho solo questa, Steph Prendi anche questa silenziata Vai, vai È bella Ma è brutta Ok Dove sei? Già a sparare, Steph? Sì, di fronte a noi Ok Minimo uno Ah, sei sul tetto, eccomi qua Con la mia mitraglietta silenziata Gli ho tolto vita Che è positivo Però non è un tipo scarso lui, eh È un bravo ragazzo No, vabbè, ci sta È un bravo ragazzo L'ho capito subito da come si è mosso Eh, però ha paura Si ho notato Si è Probabilmente equipaggiato male Il discorso è che non abbiamo mai sentito fightare Quindi teoricamente ci sono tutti e quattro vivi Esatto Quindi mi sto costantemente guardando anche nei lati Per evitare Spiacere di sapere Ah, ne vedo uno in quelle casette a sud-ovest Ok Tipo tra 240 e 210 Correva in pratica verso i propulsori, guarda Ok, grazie Ha sparato un tipo? Sì, 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 è lui Oh Occhio, Steph L'hai sentito? I doppio adshot Io non ho niente da lontano Dov'è l'altro maledetto? Ah, è lì Ok, l'ho colpito ma sta roba non fa danno Andati, andati, andati Allora, luta quello di destra e luta quello di sinistra Ok Ok Allora, ho anche un medikit così posso tornare full vita Purtroppo per solo shield ma va bene ward per due kill Non so se l'altro team c'è perché non li sto sentendo No, nanch'io Il che un po' mi spaventa Però M16 pump quindi ottimo Ce la gestiamo Zona abbastanza piccola Siamo davvero tanti vivi Che mi preoccupa parecchio Eh certo Io direi di stare qua abbastanza al centro Ci teniamo anche il potere attivo della serie che se lo vediamo lo possiamo raggiungere velocissimi E speriamo di avere un po' di fortuna Eh speriamo sì Perché ovviamente ragazzi dobbiamo raggiungerlo molto in fretta Dobbiamo essere velocissimi Steph Io questo cesto l'aprirei No si prendi la prendi Magari sai al trampolino Potrebbe essere Sei come i bouncer Eh vabbè ma il terzo di oggi Però aspetta Steph Questi mi li piglio volentieri eh Ti sciglini sono zero quindi Ti conviene Ti conviene Hai ragione Airdrop Dai ne è sceso soltanto una volta Dove scendere prima o poi di nuovo Ne abbiamo beccato solo uno Cioè assurdo La zona senza non è so chiudere Eppure siamo sempre al centro Cioè manca dire che ce ne stiamo andando Io mi sa che riprende il suo potere Perché secondo me adesso arriva Ok Ok È pronto È un sentimento È questione di feeling Ok Ci dobbiamo sperare Occhio a non cadere dei burroni eh Lo so Steph Non si sa mai Non si sa mai Come ci scendo da qui Ecco Porca miseria Opla Mi spaventa sempre la caduta ripida Sai com'è Opla Ok no passando da qui si fa Ormai lascia perdere No certo Non ce l'ho voglia Andare fino a lì Era solo per stare vicini Dai Oh scusa Ferri mi hai fatto Tre infarti In un secondo Eh lo so Stavo saltando Felice Mi è partito un po' È imperdonabile Una roba del genere Cioè potevo morire Dai Steph Questi airdrop Eh lo so Ma a fine game Ne cadono per forza Vediamo così Eh quello sì Aspetta L'ho sentito Lo vedi Sì 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 È vicino Ok Ho usato il potere io Per avvicinarmi Io non posso scendere così eh Lo so Fatti delle scale Verso il basso Modificando Eh ok Ok Ce lo sto facendo A posto Non ho preso danni Ci sei Steph Sì io ci sto andando Sì 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 Ora mi tiro il portaforte Appena sono lì a fianco Ok vai 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 Veloce Lo facciamo Veloce 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 Dove cavolo è È pieno di gente Ovviamente È sull'albero In alto in alto in alto in alto È sull'albero Ok Ok lo vedo Lo vedo Vedo il segno Salgo sul porta port con te a sto punto Per forza Che altrimenti poi qua Oh no Sparano Dai che noiosi Lasciateci Ma anche a me Eh mi sa che sparano proprio verso questa direzione Steph Allora vediamo Vediamoli Vediamoli Mi sembra che stiano comunque fightando anche tra di loro credo Lo spero Perché vedo lì una base troppo grande Qui sicuramente a 330 dietro l'albero c'è comunque movimento Ce l'ho fatta Sei sopra? Sì Eh ma poi è caduto È perché dovevo togliere il portaforte in qualche modo ma non ce l'ho fatta Ok Ci sono salito ed è Cioè ci puoi proprio stare sopra E ci scendi E ci scendi Sì Cavolo Sarebbe stato bello se fossi andato in alto e l'avessimo rotto Però ovviamente siamo in quattro ordini Al centro del game sai com'è Mai dire mai eh Pensi che magari ce la rifacciamo per il prossimo Sì A chi stai sparando? A gente a 330 È pieno di player forti eh Quello l'ho realizzato Ho sprecato anche un sacco di legna Adesso cerco di recuperarmene un po' Anche se loro ne hanno sprecato più di me per forza Vabbè per ora comunque stiamo qua no? Beh sì Abbiamo un fortaporto Stiamo dentro la zona perché muoverci? Giusto perché è pieno di alberi che non mi piace Eh dovremmo buttare giù quest'alberone qua Per avere ben visione Anzi no hanno altri alberelli più piccoli di fronte È un disastro È difficile vederli Difficile Ok Ma ti ho visto altri team? Quando sparavano? Sai no Io pensavo ci fossero persone lì a 300 Dove c'è quel bouncer Però non mi sembra Non ho mai visto neanche un movimento No secondo me da lì hanno fightato E poi si sono spostati verso l'altro posto che sto mirando Quindi boh non mi sembra Dove sta? Eh cavolo no Ok ne ho visto minimo uno Ok Però secondo me sono due lì Sì probabile Sento rumori strani Ah sei tu con i passi Sono io che cammino Steph Perché ci sto guardando intorno Nove vivi Nove vivi Siamo molti pochi Se chigliamo un po' di gente Diventa davvero fattibile Eh sì A voglia A voglia A voglia Eh sarebbe bello che ci vai in alto E poi Poi scendi Voglio legna Voglio legna Mi serve più legna Ok Allora per ora neanche dietro di noi Ah sì ne vedo Allora sud ovest dietro questi alberi Sta arrivando verso la nostra direzione Ok Ma nella zona di tutti gli insediamentini Quelli di legno Sì e infatti guarda In una casa rotta sta costruendo Sta andando adesso a luttare Ne ho visto uno Ah no c'è anche il compagno Ok Ho troppi alberi in mezzo Lo so è pieno di alberi Però sono lì Nella casetta rotta Guarda la prima che vediamo Questa vicinissima Sì 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 Non questa Quella dopo Steffa 210 Non so come sono i gradi da te Perché io ovviamente Sto facendo i miei gradi Visti 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 Perfetto Stanno uscendo Li vedi Eh sì Tolto un sacco di scilla uno Vabbè Ho tre o quattro hit Io non ne sprecherei eh Bah uno così di benvenuto Dai Ci sta E ho preso l'albero Vabbè pieno di alberi Basta Non fa Ok Devo coprirmi su qualsiasi lato Eh allora Ne abbiamo di fronte Ne abbiamo dietro Siamo solo otto Quindi pochissimi E uno di loro come minimo al cechino Ah ah Perché lo sentite Sì sì Ho visto i colpi Visto 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 No il problema È che Due Quattro Sei E il T2 dove sono Boh Non lo so Però ora che la zona si stringe Qualcuno lo dobbiamo vedere Per forza Qualcuno si vedrà per forza Sti alberi coprono tutto Allora loro sembrano abbastanza difensivi Come playstyle Sì Non stanno tirando fuori la testa tante volte Per cercare di sniperare Insomma sembrano abbastanza difensivi Allora questi a 300 comunque sono fuori Quindi si dovranno muovere Io non li ho visti muoversi Quelli a 300 330 Vedi che la loro base è fuori Quindi o si muovono o no O si sono mossi prima Magari non li abbiamo visti Sto controllando adesso meglio Io non li vedo Potrebbero essersi già mossi Potrebbero Sì no sicuramente Però Dove accidenti sono andati Eh quella è una bella domanda Aspetta Qua c'è Li vedi? Ah lì su Ok eccoli Peccato Colpito 20 di shield A uno dei due Ok Cavolo Siamo molto circondati Noi comunque siamo dentro Il che è ottimo Sì però Gli airdrop non stanno carendo Ma la smettete di sniperare Ah no però questo Vuol dire che Qualcuno mi sta mirando da est Occhio Sì quelli là A me stanno mirando da est Ma sto sempre lì sopra Il problema è che Questa è troppa legna Secondo te c'è gente In questa casupola In questa casetta Non lo so Mi sembra strano Secondo me è roba vecchia Da dove? Ferre sembrava da 345 Sì Hai visione? La montagna di 345 Vediamo Sì ho ragione Vi visti? Sì Devo scendere No non farmi risalire Ste gomme del cavolo Me ne devo andare No sono morta Sono apparsi dal nulla Ecco dove sono gli altri Loro sono anche fuori zona Per ora rompono le scatole Giustamente Non so se spostarci A sto punto Devo sicuramente tirarmi Il medikit Mi ha proprio preso Perché non capivo Da dove arrivassero Accidenti Gente anche alla nostra sinistra Sì ma te l'ho detto Siamo circondati A tutti i team Sì sì E noi essendo al centro Stanno puntando tutti noi Piuttosto che combattere Tra di loro È normale Ok no Adesso si stanno sparando Con quelli alla destra Ok Non so quanti missili hanno Ne puoi avere massimo 12 Ne hanno già sparato almeno 6 Vabbè non saranno molti di più Dai Ok Scendete da lì Che voi siete fuori zona Oh io qua ne vedo una Aspetta Stavo cercando di sniperare Quelli era qui fermo Bello tranquillo Gli hai tolto un bel po' Sì gli ho tolto shield Ok Occhio che adesso scendono Questi furfanti qua E li vorrei un po' Spacchettare Sì Cavolo siamo circondati Quelli a 350 Ok E io non li vedo bene Perché ho visione di questi Sono già scesi Sono già scesi Secondo me dalla sinistra Sì infatti hai ragione Ok Salgo Mi faccio una struttura più alta Perché non ho ben visione E stanno cercando di sparare Tolto l'uscilio ad entrambi Uno l'ho hitto Uno l'ho hitto Uno l'ho hitto Boom A terra Ok Ucciso uno Ok Moteli rendo È il mio turno Ovviamente 35 di vita Con i razzi Moteli becchi Vai Steph Vai che gli distruggo tutto Ok Non ho colpi per fare sta roba io Lo so Io ho anche l'LMG Aspetta Non gli diamo pace Non gli diamo pace Ok Cerca di sniperare Ti tiro un altro razzo amico Ok Ho tolto anche l'alberone Qualcuno mi sta cercando di prendere Da qualche altra parte Sicuro Ucciso Era il mio razzo Oh Gesù Fere Io Che ti devo dire L'avevo già tirato Steph Che paura Qualcuno sta cercando di prendermi Con lanciagranate O comunque stanno combattendo Steph Quattro vivi Quattro vivi Ok 2v2 Ahah Ho bouncer Ma non ho trampolini Vediamo un attimino Se riusciamo a rifare Vediamo un attimino Se riusciamo a replicare Allora Sei da dove? Mi sembrava qua Guarda 240 gradi Questa parte qua Qui alla nostra destra? Sì Così mi è sembrato dal suono Perché ovviamente Io ero ben coperta Da quel lato E quindi non riuscivo a vederli bene Poi ho pochi colpi Cavolo Quanti ne hai preso te? Tantissimi Beato Mi sei sotto? No? Sì sono sotto Però no Non sembra che Ok li vedo Li vedo Li vedi? Ah lì Ok 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 Salgo allora Vado sull'anticipo Tanti fare Itato 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 Ho tolto tutto lo shield Apri lì Ok Vieni Ok thank you Ne ho davvero pochi 50 Ok ricarico Ok Quindi ho uno Ho tolto tutto lo shield E un po' di vita Ho un brazzo Steph Ho proprio uno Vieni un po' Ma vabbè Li potevi tenere Era per dirti Che ne potevo tirare solo uno Solo quello Ok siamo fuori zona Ok Ce n'è uno lì Sì Annoia Occhio 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 Quello di destra Vole snapperare Eh lo so Allora metto un bouncer Pronta? Sì Ah non ho materiali Non me ne ho raccorta Mi nascondo Tieni Ok 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 Pensa 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 a riparare Ah mi stanno prendendo Ok ci sono Se non muori Ce la facciamo Ok ci provo Devo Devo ribattere Mentre che loro Tanno a costruire Se torni indietro Ti ho buttato Un jug jug Ok Se riesco a tirarmelo Perché la situazione È molto complessa In questo momento Cerco di darti io al modo Ok Ci provo Vado Non so se è il momento giusto Ma vado Fai attenzione 8 secondi Dai 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 6 5 Che ansia Ok a posto Ho fatto Uno colpito 30 di vita tolti Ok Vita Sì vita Quello con la skin Da Wonder Woman 30 di vita Quindi non aveva shield Ok Li faccio danno Li faccio danno No non li ho fatto Ok li ho fatti cadere Stef Uno quasi a terra Secondo me Cavolo quello che salta Colpito 30 di shield tolti Occhio Stef Ok a non buttarmi giù a me No 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 Sto puntando a loro Però occhio Stef Io sono dietro Uno è andato Ok Ok ce l'ho sotto Eh lo vedo Bravo Good job Good job Già siamo pure vinta Non male dai Non male Ma è stato vincente Avrei voluto volare ancora di più raga Però quantomeno ci siamo tolti il dubbio Nel senso il dubbio numero uno è andato Si può stare sopra mentre scende? Sì Si può addirittura volare qualcosa che crolla? Questo non l'abbiamo scoperto Perché ci serve davvero una precisione chirurgica Assolutamente sì Io sarei buttato nelle più voce e il portaforte non è stata una buona idea Cioè in realtà se lo avessi tiato un po' più defilato andava bene Ma c'era davvero tanta gente che sparava in questa situazione qua specifica Sì eravamo circondati